Good morning, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7 e 12 minuti giovedì 4 aprile, bentornati qui in diretta su Crystal Radio con una nuova puntata, un nuovo appuntamento di Good Morning Milano. Come state? Tutto bene? 3317853555. Ve lo dico sempre in apertura, questo è l'unico modo che avete per rispondere alle mie domande. State bene? Come va? Cosa fate? Dormito bene? Eccomi, potete rispondere al 3317853555. Ebbene inizia la nuova giornata, inizia un nuovo giovedì, ormai siamo quasi arrivati a fine settimana, una settimana più corta rispetto alle altre, ma che credo che a tutti comunque sia pesata più di una settimana da nove giorni. Se avessero fatto una settimana più lunga in un altro periodo dell'anno ci sarebbe pesata meno rispetto a questa qua, perché la Pasqua lascia sempre molti, molti strascichi. Lo so benissimo, gente disperata in avvicinamento alle bilance perché ha fatto di tutto, gente che non è riuscita a riprendersi dal ritmo, il ritmo, la quotidianità, la routine saltata. Allora io cerco di portarvi semplicemente questo piccolo momento, queste due ore la mattina in compagnia di Good Morning Milano per ristabilizzare un po' la routine settimanale. Anzi, grazie come sempre di farci entrare nella vostra routine mattutina. Perché io lo dico sempre, anche i miei colleghi che vengono dopo, che fanno le trasmissioni negli altri orari. Vabbè, alle tre del pomeriggio è facile entrare a casa vostra, non so come dire, ma alle sette del mattino se voi non mi aprite io rimango sull'uscio, io rimango fuori al freddo e al gelo e invece voi tutte le mattine mi aprite la porta di casa, mi aprite la porta del vostro smartphone, della vostra radio, del vostro viaggio verso il lavoro e insieme affrontiamo le prime ore della giornata. Grazie davvero a tutti voi che ci ascoltate ogni mattina qui su Crystal Radio a Good Morning Milano. In UGENEA con Tiena Te, grandi in UGENEA, li ricordo sempre, gruppo partenopeo napoletano, si sente soprattutto anche dalla lingua che usano nel cantare, è nato però in quel di Bernino, quindi una musica che arriva da lontano ma con le radici che poggiano, anzi affondano appunto nel nostro canale. Paese, brevissimi in UGENEA con Tiena Te, sempre qui su Crystal Radio, 7 e 18 di oggi giovedì 4 aprile. E cosa è successo nel mondo nel 4 aprile, nella storia in giro? Pensate che 49 anni fa, nel 1975, veniva fondata la Microsoft. Ebbene sì, il 4 aprile 1975 viene fondata la Microsoft, Bill Gates, Tim Allen e tutta la combricola che conosciamo bene, Steve Ballmer, quelli lì, quelli lì. Io consiglio a tutti quelli che vogliono sapere un po' di più e magari hanno visto i vari documentari e tutto, però c'è un film secondo me che vince su tutti, un film tra parentesi non è nuovissimo, però che secondo me può aiutare. E' un film del 1999 che si chiama I Pirati della Silicon Valley, Pirates of Silicon Valley, è molto fatto bene e racconta la storia praticamente di Apple e Microsoft. Racconta un po' quello che hanno fatto, un film davvero interessante, pensate che c'è un No A While che fa Steve Jobs pazzesco, No A While è quello che poi farà più avanti, poi IR, famosissimo appunto per la sua interpretazione della serie IR, quelli di Medici Prima Linea, si chiamava così in italiano, credo di sì. Un film davvero che dovete cercarvi, non so dove si trovi, credo che ci sia su nessuna piattaforma, quindi dovete cercarvelo in giro per la rete, ma è davvero veramente un film interessante se volete capire un po' che cosa significava essere quei pionieri, anzi in questo caso quei pirati, così vengono chiamati, della Silicon Valley. Un po' più orientato verso la parte Apple, ma molto molto importante comunque la parte Microsoft che c'è comunque espressa nel film, anche perché il film si ferma a un certo punto, che poi è il punto iniziale, quindi non spoilerò niente, quando molti di noi non se lo ricordano, ma a un certo punto nella storia di Apple, Microsoft entra a salvare Apple. Ebbene sì, intorno al 1995-96, più o meno, quando Steve Jobs ritorna in Apple, e qui invece andate a guardarvi il film per capire cosa significa questo ritorno in Apple, Microsoft salva in un certo senso Apple dalla bancarotta, e da lì poi di nuovo tutto sul 97, sarà l'anno poi del grande boom dei primi computer colorati, di vecchia i Mac, quelli colorati dietro, e poi dopo comunque avanti. Ma è bello vedere anche come questo giovanissimo Bill Gates, c'è un Bill Gates fantastico in questo film, ben raccontato, e insomma tanti tanti attori importanti che raccontano in un film del 99, è un po' vecchio, ma vi assicuro che racconta perfettamente bene la storia, ed è invecchiato bene, diciamo, sono quei film che invecchiano bene e invecchiano male, questo qui diciamo che è invecchiato bene. Giornata quindi oggi appunto che ricorda la nascita di Microsoft nel 1975. Invece scompare oggi, vabbè, un grande dei diritti, Martin Luther King, non sto neanche ad allungarmi, oggi credo sia il Martin Luther King Day, negli Stati Uniti tra parentesi, e invece sempre oggi, ma 95 anni fa, nel 1929, muore Carl Benz, sì, quello lì, Benz, quello che ha inventato il motore che poi ci sono sulle nostre macchine, quello che poi diventò Mercedes-Benz, quando si mise insieme al signor Mercedes. Chissà se sono in giro delle Mercedes, in giro nel traffico, non so se ce lo può dire, ma luce verde sicuramente ci dice il traffico. Fiorella Mannoia con Mariposa, e soprattutto oggi è il 4 aprile, e quindi auguri a Fiorella Mannoia. E sì, 4 aprile 1954, 70 anni per la grande Fiorella Mannoia, che oggi appunto compie gli anni, e li compie con, pensate, all'attivo 39 dischi pubblicati, di cui 19 in studio, 5 live e 15 raccolte dei suoi grandi successi. Fiorella Mannoia, pensate, che detiene a pari merito con altri 4 artistiche, se non sto a elencarvi, il primato per il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, uno dei club importanti che riconoscono appunto le grandezze della musica italiana, detiene appunto 6 Tarche Tenco. Club Tenco, che è molto interessante, è a Sanremo, io quest'anno sono potuto anche andare a visitare il Club Tenco, che è nella sede della vecchia stazione di Sanremo, un luogo pazzesco e super emozionante, anche per vedere, anche quando si guardano soprattutto le foto di chi è passato dal Club Tenco, chi si è esibito, chi è stato lì a raccontare la sua carriera. Pensate a un nome della musica, c'è, c'è tutti, da quelli stranieri a quegli italiani, dai grandi della musica folk americana, ai grandi rocker, ai grandi artisti della musica contemporanea, ai cantautori, più disparati, chiunque, non vi dico neanche un nome perché c'è tanto, chiunque, pensate a quel nome? Quello? C'è, sicuramente. E quindi tanti e tanti auguri a Fiorella, comunque, Mannoia, che ha appunto 70 anni e avete dito che pezzo? Cioè, ragazzi, c'è solo da imparare, c'è solo da stare lì a bocca aperta e di imparare. Noi ci fermiamo un piccolo istante, un paio di canzoni, due consigli per gli acquisti, poi torniamo sempre qui in diretta con Good Morning Milano. Beyoncé con Break My Soul, 7 e 37 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano. Abbiamo degli ospiti collegati con noi perché ieri ve l'abbiamo letta questa notizia, no? Abbiamo parlato di un fantomatico distributore che dovrebbe nascere in quel di Via di Missaglia e con tutto lo spazio che c'era al mondo dove lo facciamo sopra un pozzo di captazione, ecco, infatti. E per capire meglio, allora, abbiamo voluto qui con noi qualcuno che ci spiegasse un po' cosa sta succedendo lì. Parliamo del Comitato Difesa Ambiente Zona 5 e diamo il benvenuto ad Anna Stefanelli e Maria Gerli. Buongiorno a entrambe. Buongiorno a tutti. Allora, la notizia, noi, letta dal giornale, ci parla alquanto assurda, se posso dirlo. Nel senso che, va bene, c'è da fare un benzinaio, facciamo questo benzinaio, va bene, di spazio ce n'è tantissimo, in giro per la città, no, andiamo a farlo sopra a un pozzo dell'acqua potabile. Ma com'è possibile che si pensi anche solo lontanamente di fare una cosa del genere? Eh, praticamente funziona così, l'hanno girata come ristrutturazione. Noi comunque siamo un gruppo di cittadini che, siccome teniamo a cuore l'ambiente e il verde della nostra zona, ci siamo impegnati sulla difesa appunto del verde e abbiamo scoperto nel 2018, ormai maggio 2018, che tagliavano degli alberi trentennali in una zona posta davanti al caseggiato dove abitiamo. E scopriamo che addirittura lì ci volevano fare un distributore. Questo distributore abbiamo poi dopo scoperto che veniva a cadere in una zona su ben tre pozzi di captazione dell'acqua potabile, nell'ambito dei 200 metri che è stabilito dall'articolo 94 della legge ambientale del 2006 nell'area del rispetto, dentro il quale non si può stoccare nessun materiale pericoloso. Abbiamo provato per vie con i consiglieri di municipio, il comune, abbiamo fatto raccolta film, le abbiamo consegnate, ma ci siamo visti costretti a fare ricorso al TAR. E com'è andata questa storia del ricorso al TAR? Com'è funzionato? Questa storia del ricorso al TAR è stata dura perché chiaramente abbiamo contattato un avvocato, abbiamo fatto cene, pranzi, spettacoli per raccimolare i soldi necessari, poi ci siamo passati tutti noi del comitato. Insomma, alla fine siamo riusciti a fare questo ricorso che abbiamo comunque vinto in maniera eclatante. Prima con un'ordinanza, perché nel frattempo il ricorso era di luglio 2018, ma a dicembre la Kuwait ha cominciato i lavori per costruire il distributore. Ci siamo visti costretti a chiedere la sospensiva che abbiamo ottenuto. Con una sentenza eclatante, perché i giudici, che poi l'hanno confermato anche nella sentenza dell'ottobre 2019, hanno detto che la salute dei cittadini viene prima sicuramente con gli interessi del comune e della Kuwait. Ecco, perché c'è di mezzo anche il comune in questo caso? Perché qui anche, no? Perché speriamo bene cosa è successo. Appunto, questo terreno non è che è stato comprato da Kuwait normalmente, nel senso che è un risulto di un'altra operazione, giusto? Esatto. All'inizio di Piazza Abbiategrasso la Kuwait aveva un distributore, questo credo prima del 2005, perché praticamente lì, avendo fatto la metropolitana in Abbiategrasso, in quegli anni lì, nel 2005 credo, era necessario un parcheggio vicino alla metropolitana. Allora hanno fatto chiudere i Kuwait e hanno fatto uno scambio tra il posto dove stava il distributore e che hanno fatto il parcheggio e quest'altro pezzetto, più avanti sempre via di Missaglia, dove dovevano fare il distributore. Spacciandola però per distrutturazione, la Kuwait ha chiesto al comune l'autorizzazione e il comune gliel'ha concessa. Ma nessuno in comune si è accorto che c'era nell'arco di 200 metri dei pozzi potabili e quindi che la legge diceva che non si poteva fare sta roba? Se ne accorta talmente che praticamente la Kuwait, quando ha presentato la domanda di autorizzazione, noi abbiamo fatto accesso agli altri, quindi abbiamo tutte le richieste. C'è addirittura la cartina con tutti segnati i pozzi di captazione dell'acqua potabile. Quindi questa cosa era a conoscenza, sia della Kuwait che l'aveva dichiarata e quindi anche del comune che ha concesso l'autorizzazione. Peccato che l'oro spacciandola come distrutturazione, quando è distrutturazione non sono tenuti agli stessi vincoli, ma siccome era da fare appunto a capo un po' più avanti, noi abbiamo detto no, è nuova costruzione e comunque lei pensi che è comunque in area B e il distributore che volevano costruire era benzina e diesel. Cioè una roba che... Ma appunto, ma cosa c'era prima in questo punto dove adesso si dovrebbe fare... Cioè, c'era alberi trentennali e verde. Non c'era nient'altro. Nient'altro. Un via metri quadrati dove c'era solo alberi e verde. Nient'altro. Però, quello che vorrei capire, adesso perché siamo qua a parlarne se voi avete vinto il ricorso e quindi in teoria il tuo posto dovrebbe essere, no? Invece no, cosa è successo? Allora, diciamo che noi come quartiere, come comitato, e abbiamo anche dei ganci, siamo sostenuti da molti comitati diversi del quartiere, speravamo nel frattempo che il comune trovasse un accordo perché subito l'allora assessore Granelli si era detto molto contento di questa sentenza a favore dei cittadini e stavano cercando di trovare un accordo con Kuwait per permutare un'altra volta questo terreno con un terreno posto più a nord. Gli accordi sembravano a buon punto, a buon punto, stiamo firmando, stiamo firmando. È difficile, ma ce la stiamo facendo. Insomma, ve la faccio breve, sono passati cinque anni di accordo che era già proprio nella casella delle lettere, no? C'era pronto. Cinque anni di battaglie, ovviamente di altre raccolte fondi, di anche, come dire, insofferenza del quartiere perché comunque abbiamo davanti a noi una specie di cubo fattiscente, un'area pericolosa. Sì, perché nel frattempo avendo fermato i lavori adesso è tutto lì dismesso, cioè non c'è niente, non ci sono più gli alberi, non c'è neanche il benzinare, cioè non c'è niente, non c'è il servizio e non c'è neanche, benissimo, ottimo. C'è un disastro. Quindi diciamo che all'inizio pensavamo che si potessero trovare un accordo, in realtà subito dopo ci siamo disillusi perché Kuwait e Comune ci hanno portato in secondo grado di giudizio per cercare di ribaltare evidentemente la sentenza che era stata a favore dei cittadini. Quindi ci siamo sentiti traditi, ma abbiamo sempre avuto la speranza di questo benedetto accordo. Ora, non si capisce come mai, se la volontà del Comune è veramente quella di aiutare i cittadini a tornare in possesso di un'area verde, non si sia ritirato dall'accordo, perché veniamo a dunque, l'8 di maggio ci sarà il giudizio di secondo grado. Quindi alla fine al giudizio ci portano, il Comune che ha sbagliato cinque anni fa ci porta un'altra volta in giudizio con tutto quello che comporta. Anche di spese. Anche di spese. Anche di spese. Anche di costi anche, immagino. Quindi è incredibile il fatto che per cinque anni ci abbiano praticamente preso in giro con un accordo che era prontissimo, evidentemente non lo era, e abbiamo anche questa sensazione che il secondo grado fosse anche un po' indipendente da questo accordo, nel senso che molto probabilmente che l'accordo ci sia o non ci sia, o sia formalizzato o non formalizzato, il secondo grado serve probabilmente al Comune, perché se per caso vincono, probabilmente i rapporti di forza con cui sono diversi, se perdono avranno l'accordo nel cassetto. Ma questo probabilmente non prescinde, ed è sempre stato così per cinque anni, questa è la nostra sensazione. Chiarissimo. Beh, allora tutto questo però porta anche a vedervi scendere in piazza, giusto? Questo sì, adesso abbiamo organizzato, sperando che vengano parecchie persone, ma ci stiamo comunque allertando abbastanza, per l'8 aprile in piazza della Scala, perché abbiamo saputo che tutti i lunedì il Consiglio si riunisce e allora abbiamo pensato di fare un presidio proprio in piazza della Scala, con manifesti, abbiamo anche costituito nel corso degli anni una specie di bruco verde con dentro tre di noi che girano per cercare di sensibilizzare quanto più persone possibile, cercheremo di fare quanto più rumore possibile per dire le nostre ragioni, almeno far sentire la voce di noi cittadini del quartiere che non ne possiamo più e che il Comune avrebbe dovuto fare questo accordo assolutamente per evitare. Dice sempre che a favore del verde, a favore dei cittadini, sì, verde, 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 faremo verde, ma per il momento di verde non si vede niente. Beh, potrebbe arrivare la benzina verde a questo punto, magari è questo che intendeva il Comune, lo chiederemo magari, potrebbe essere quello. A favore della benzina senza piumo, quella verde potrebbe essere. Ma comunque... Se posso aggiungere, una cosa incredibile è che, cioè, parlando anche solo qua del quartiere, no? Cioè, abbiamo un Comune che ha speso 7 milioni e mezzo di euro per togliere il pavé dall'unica strada storica che avevamo in questo quartiere, che è un quartiere di periferia, insomma, che sta diventando anche sempre più degradato, in cui vengono tolti progressivamente tutti i servizi. E abbiamo fatto anche lì una battaglia, ci siamo persino sdraiati su pavè in tanti, perché era bello, perché era storico, l'acqua percolava, una serie di cose. 7 milioni e mezzo per mettere una colata di cemento. Poi avevano stanziato 3 milioni e mezzo, per fortuna siamo riusciti un po' a fermare il progetto, per sventrare il parco agricolo del Ticinello, renderlo urbano come volevano loro, fare ponti con le luci sotto... Cioè, delle cose assurde, e non trovano probabilmente delle briciole, perché abbiamo anche saputo più o meno di quanto si parlava, veramente per mettere una pezza a un errore clamoroso, macroscopico, che loro stessi hanno fatto. Cioè, questo ha veramente dell'incredibile, no? Insomma, devo dire che il vostro comitato è molto attento a quello che succede in territorio e anche molto attento a farsi tanti amici in comune, vedo. Quindi complimenti al lavoro che fate giornalmente. Ricordiamo bene allora quando e dove appunto il presidio di lunedì. 8 aprile, ore 18, Piazza della Scala. Perfetto. Iniziate in canti. Cercate un bruco verde. Ah, ok. Vi riconosceremo così. Quello è del bruco verde. Benissimo. E allora, comunque, cercate anche in rete Comitato Difesa Ambiente Zona 5, trovate tutte le informazioni. Grazie davvero ad Anna Stefanelli e Maria Gerli. Fateci sapere come va, però. Teneteci aggiornati. Grazie, grazie. Buona giornata. Va bene. Grazie mille. Grazie mille allora ancora alle nostre ospiti. Nel frattempo, 331-78-53555. Grazie ad Alberto e al suo WhatsApp, che dice buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio Milano. Oggi, finalmente, dovrebbe essere una giornata col cielo sereno. E speriamo, e dice anche grazie a te Fabio, che ci introduci tutte le mattine nel nuovo giorno e nelle quotidiane inconvenze. Questo è Good Morning Milano. Ritorniamo fra pochissimo, sempre qui in diretta, prima di ascoltare Annie Lennox. Annie Lennox con Y. 7.53 minuti, sempre qui in diretta su Crystal Radio. Good Morning Milano. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo al 331-78-53555. La mattinata è ancora lunga, ve lo dico, e grandi ospiti sono qui pronti al di là del vetro ad entrare in studio con noi. E non dimentichiamoci che dopo la piccola pausa che partirà fra pochi istanti avremo anche Tamara Malleo con i suoi consigli per il teatro. Vedremo che cosa ci consiglierà in questo... Se quella domenica prima di Pasqua è la domenica delle Palme, quella dopo Pasqua cosa sarà? Non lo so, comunque. La prima domenica di post Pasqua, va bene, facciamo così. No, chissà cosa ci dirà per questo weekend e per la settimana a venire nei teatri milanesi che sappiamo essere sempre molto pregni di appuntamenti e interessanti avvenimenti. Appunto, insomma, Milano è la città del teatro, c'è poco da fare, quindi siamo ben contenti di raccontarla tutti i giovedì qui in diretta con Tamara Malleo e i suoi consigli che dovrebbero portarci a questa famosa abitudine del teatro, così come la chiama lei. E poi tanti, tanti altri ospiti che vi assicuro, anzi, io fossi in voi mi collegherei anche perché questa mattina non c'è solo da ascoltare ma c'è anche da vedere. Non vi dico niente più, fatti i vostri. Se mi fidate di me, lo fate. Se no, non so cosa dirvi. Dai, invece, fidiamoci della musica di Crystal Radio, un po' di musica ancora, piccola pausa e poi torniamo qui sempre in diretta sui 96.2 FM Dub Plus applicazione per iOS Android e ovviamente sul sito crystalradio.it Sì, quel sito lì quello che vi consiglio sempre di aprire e poi iconizzare e tenere sotto mentre il capo vi parla e invece voi vi ascoltate bellamente la nostra musica e il nostro Good Morning Milano. Avanti con la musica Lil Nas X con All Town Road. Earth Wind & Fire Boogie Wonderland il 8.08 questo era il Crystal History delle 8 bentornati qui su Good Morning Milano qui su Crystal Radio e iniziamo la seconda parte di trasmissione con anche un ospite qui in studio diamo il benvenuto alla Prada buongiorno buongiorno Milano buongiorno benvenuta alla Prada che dà il buongiorno insieme a me anche ad un'altra ospite che è quella del giovedì lei proprio è la resident del giovedì sentite la risata di Tamara Valleo buongiorno Tamara e la sua abitudine del teatro buongiorno buongiorno a Fabio buongiorno alla Prada buongiorno agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Crystal Radio e di Good Morning Milano dove ci porti quest'oggi due consigli uno per questi giorni e uno per la prossima settimana allora in questi giorni imperdibile al teatro Elfo Puccini quindi ci troviamo in Corso Buenos Aires fermata da Metropolitana Lima o Porta Verenzia quindi Ligna Rossa The City è uno spettacolo con la regia di Jacopo Gasman in scena ci sono Lucrezia Guidone e Cristian Larosa due attori anzi un'attrice e un attore bravissimi che entrano dentro una storia scritta da Martin Kript che è un autore inglese che ha scritto questo testo nel 2008 ma è assolutamente molto attuale ci troviamo all'interno di una casa ma che una casa che può essere che è interita all'interno di una città quindi ci sono questi due personaggi che però sono parte di un di un universo e cioè si parla di una crisi di coppia ma in realtà è una crisi umana perché vedremo che questi due personaggi lei è una traduttrice che però fa anche la scrittrice lui è un impiegato all'interno di una grande società che però forse perderà il lavoro cominciano questo dialogo quasi surreale e poi si innestano dei meccanismi all'interno che ci porteranno in un mondo altro dove al centro c'è una forma di estraneamento che ci parla molto in questo oggi quindi imperdibile fino a domenica quindi fino a domenica 14 scusatemi fino a domenica 7 7 scusami oggi il 4 5 6 7 giusto 7 c'è di buono che fino a 3 so contare meno male per fortuna no no perché io sono alterata con le settimane e quindi fino a domenica 7 potete vedere questo spettacolo The City al teatro del Fupuccini peraltro Cristian La Rosa è un attore meraviglioso che fa dei lavori che sarà anche il Fupuccini ricordiamo zona zona metropolitana rossa tra Porta Venezia e Lima sai che ti interrogo sempre sulle fermate della metropolitana quindi brava hai un po' distratto prima perché l'ho già detto no no torno perché prima magari lo dici mentre poi dopo non te lo aspetti bisogna allora invece ah ti stavo dicendo che Cristian La Rosa sarà poi in scena il 19-20-21 di aprile al teatro binario ah scusate al teatro della cooperativa che è un teatro che a te piace molto con Animali Domestici con la regia di Antonio Mingarelli con Alice Raffelli uno spettacolo imperdibile ma ce lo racconterai infatti esatto poi ne parleremo poi ci stiamo invece a Campo Teatrale zona Lambrate metropolitana Udine quindi linea verde fermata Udine Campo Teatrale Calergi il complotto dei complotti siamo parlando di una compagnia molto giovane firmamento collettivo che dal 9 al 14 aprile sarà in scena con questo spettacolo in cui si parla di un tema particolarmente forte e diciamo così molto attuale in questo in questo periodo ma in realtà nella nostra storia è un mondo dove il piano Calergi teoria del complotto per la quale le migrazioni sono una copertura per la sostituzione etnica europea è realmente in atto è un partito del buonsenso e pronto a stroncarlo una compagnia di teatro è impegnata contro il tempo per la salvezza dell'umanità ci riuscirà il teatro a questa funzione ce lo racconto una giovane compagnia che crede nella funzione del teatro e crede in quello che il teatro può dare attraverso raccontando perché volevo ricordare nella nostra abitudine nel teatro che il teatro ci regala sorrisi ci regala momenti di diciamo così di gioia ma anche deve avere una grande funzione quella di raccontare cose scomode perché se no il teatro insomma perde anche un po' la sua funzione quindi due appuntamenti uno per questi giorni gli estiti al teatro Focuccini uno per la prossima settimana a Campo Teatrale Calergi giovane compagnia da sostenere beh Tami grazie mille Prada ti sei segnata degli appuntamenti yes tutto pronto ok però poi parlerai con la tua ospite di un appuntamento infatti perché dai dici ne uno perché anche tu comunque appunto calchi alcuni palcoscenici e quindi Prada dicene uno così il primo che ti viene in mente anche io ho bazzicato il teatro da una parte dall'altra allora io torno in teatro il domenica 21 aprile difatti Tamara io ti invito abbiamo già un po' parlato prima con un mio spettacolo che si chiama Judy Garland vita morte miracoli tutto dedicato a questa icona che è Judy Garland alla sua vita come appunto è scomparsa e ai suoi miracoli che la gente non ci crede e dice ma che mia quella ha fatto Judy Garland dovete venire a vedere lo spettacolo per sapere 21 aprile dove? all'atelier del teatro delle arti firma 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 dove è Tamara metropolitana? metropolitana repubblica repubblica m3 gialla io vado a piedi in quella zona scusa è vero scusa lei è una ragazza di Porta Venezia scusa è vero siamo in due siamo in due Tamara qui invece i ragazzi di San Siro sono trattati così da questi borghesi del centro se vado a piedi guarderò la metropolitana vicina va bene Tamara grazie mille ricordaci velocemente velocemente dove ti possiamo trovare quando nel senso non i Porta Venezia nel senso in televisione anche là allora Teatro Mania il venerdì su Milanao canale 191 delle digitali terrestre dalle 16.40 invece lunedì su Antenna 3 canale 11 dalle 23.30 grazie Fabio come sempre grazie alla tua ospite alla Prada grazie a te Tami e salutaci il teatro e ci vediamo a teatro ci vediamo a teatro ciao grazie mille Tamara Prada allora adesso poi noi andiamo avanti prima un po' di musica e poi entriamo nel tema perché insomma qui dobbiamo capire Drag Queen Drag Queen questa parola infatti io conoscevo le Drag Race conoscevo le Drag Race ma era tutta un'altra roba credo quindi rimanete con noi appunto un po' di musica e poi torniamo qui in diretta su Crystal Radio qui a Good Morning Milano con La Prada e adesso in Maroon 5 con This Love Maroon 5 con This Love grazie mille a Marilena che al 3317853555 ha scritto che bella sta canzone bella scelta buona giornata Fabio e dice ma se mi metto a ballare e cantare in metro sembro pazza ma secondo me no ma lo chiedo a una che insomma balla e canta tanto e bene amo sempre una drag ah ok ottimo 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 ben ritrovata alla Prada appunto che avete già sentito nella prima parte poco fa insieme a Tamara ma adesso insomma entriamo nel vivo la Prada Drag Queen che cos'è una Drag Queen Prada devi farci un po' di ABC sei il nostro Alberto Angela in questo momento va bene più un Alessandro Barbero magari ah non sei una bimba di Alberto sai che sono queste fazioni io sono più Alessandro Barbero perfetto ok va bene sono di quelle bimbe e allora Prada noi pendiamo dalle tue labbra una Drag Queen chi è? che cos'è una Drag Queen? chi è? allora io spiego sempre la Drag Queen come una performance per tutto un mestiere piuttosto che un'identità ecco io non mi sento una donna nella vita di tutti i giorni mi sento una donna per quei tre minuti di performance ma perché il mio mestiere me lo richiede questa finzione e la spiego sempre come un un eccesso di gender un eccesso di genere che può essere un eccesso di femminilità o di mascolinilità o un eccesso di altri stilemi del genere che abbiamo noi come società e la Drag gioca proprio su questo su questo eccesso di donna su questo eccesso di uomo sul palco con la paillette le piume di struzzo il tacco vertiginoso effettivamente non ho mai avuto un ospite che si vestisse così elegante così bene la mattina devo dire effettivamente alle cosa sono? le 8 e 20 del mattino effettivamente una paillette marron mi sembrava la cosa più adeguata per una mattina sembra che c'è anche in tinta proprio nello studio quindi veramente complimenti armocromica armocromica mamma mia io non ci credo comunque oh grazie 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 per essere del club allora e diciamo quindi questo eccesso viene portato sul palco delle performance che fanno tanto divertire prima di tutto sicuramente allora si la drag queen non dico che nasce come un personaggio comico però negli anni è rimasta questa punta di fondo fa ridere ma anche riflettere fa ridere ma anche piangere più che riflettere noi diciamo che in questi ultimi anni da metà secolo in poi degli anni 50 in poi è diventato proprio un personaggio comico in se per sé perché comunque il gender il genere fa ridere cioè se ci pensi una donna con le tette troppo grandi con i tacchi troppo alti un uomo con le braccia troppo grandi fanno ridere perché è un eccesso perché ti mostra quanto fondamentalmente siano stupidi tutti questi stereotipi tutte queste caselle che noi ci mettiamo io guardo i tuoi bellissimi occhi Fabio non so se lo guardare in telecamera o wow no no guarda pure la telecamera grazie grazie per i miei bellissimi occhi ma guarda pure in telecamera non c'è problema siamo dei personaggi comici era una battuta infatti quella dei bellissimi occhi diciamo che ci segue la casa infatti appunto questo eccesso viene fatto sul palco non è solo un personaggio comico ma la cosa che mi ha colpito è che dicevi perché se non è un'ultima metà del secolo non è una cosa di oggi ecco cosa sono inventati i giovani d'oggi no per niente dobbiamo tornare veramente all'alba dei tempi per parlare della storia io dico sempre che noi siamo il terzo mestiere più antico del mondo il primo lo sapevo il secondo il becchino e il terzo la travestita perché noi quando società ci siamo messi capi d'abbigliamento abbiamo detto questo è da uomo questo è da donna è nato il travestitismo ok chiaro come pratica come pratica non sempre in intrattenimento tipo antica grecia ha fatto per per il divino è più una esplorare religioso poi negli anni si è evoluto e anche il fatto che la donna non potesse stare a teatro questa è un'invenzione antichissima che ci siamo dati e perché non poteva stare a teatro perché gli antichi credevano che il corpo della donna fosse così debole che potesse esplodere sul palcoscenico perché nell'antichità nell'antica grecia così tu il corpo del divino il dio entrava in te per essere interpretato in quel momento il corpo della donna era debole visto che non ci ho visto lontano con l'ottore di Alberto Angela però vedi dove ci hai portato vedi dove ci hai portato mi spiace mi spiace un salto di qualche secolo più avanti si arriva invece appunto alla prada che qualche millennio qualche millennio più avanti non sono così vecchia Fabio ma perché sei un'istituzione oramai cara prada oramai sei un'istituzione la prada è un'istituzione a Milano insomma la fondazione la prada non c'entra non c'entra nulla però insomma non sei la fondazione ma insomma quasi nel senso che appunto dal 2018 è iniziato mi piace quando prima mi hai detto è iniziato in maniera amatoriale e poi è diventato invece la mia professione perché appunto c'è proprio anche una distinzione nel senso che diventa proprio un mestiere a un certo punto c'è chi va a bottega chi va sul palco a fare la prada non dico altro sì allora io ho iniziato nel 2018 al Toilet Club Milano che è una discoteca che è una realtà che c'è ancora adesso prima stava in Via Lepadova adesso ha cambiato location però loro sono molto fighi e mi piace molto come realtà perché ancora oggi mettono nei loro spettacoli uno o due slot per drag nascenti o queer performer nascenti così io ho iniziato lì per i primi due anni pagata con un free drink il free drink era la mia paga però mi piaceva così tanto farlo anche perché il drag è un'unione di tantissime cose costumista troccatore parruccaio coreografo regista cantante che fai tutto da sola yes yes perché questo ancora oggi faccio tutto da sola se qualcuno vuole farmi da team creativo io però non è proprio il bello anche proprio quello crearsi questo personaggio e crearlo giorno dopo giorno proprio da sola cioè tu sei quella cosa lì per quei tre minuti di cui parlavi ma insomma per quei tre minuti lo sei sul palco ma poi c'è tutto un lavoro dietro che dura anni mesi sì sì dura giorni dura ore ed è bello farlo perché se no non lo fai perché non lo fai per i soldi non lo fai per i follower così lo fai perché ti piace ti piace stai fino alle tre del mattino a cucirlo fai una parrucca stai in bagno in doccia e ascoltai sempre la stessa canzone perché devi imparare quelle parole per la performance perché una delle tecniche che si utilizzano è quella del lip sync giusto cioè del quello che noi comuni mortali chiameremo playback ma non è proprio la stessa cosa perché non è cantare sull'implayback ma interpretare e appunto sincronizzarsi con la canzone giusto labbra sincronizzate che non è una cosa che abbiamo sempre fatto è una cosa nata negli anni 50 col jukebox c'è una cosa molto divertente su come è nato il primo lip sync praticamente c'è questo sconosciuto questa sconosciuta che mette una canzone anche questa sconosciuta non la sappiamo si mette su uno sgabello mette le sue ginocchia dentro al maglione le gambe dentro al maglione e le ginocchia sembrano un paio di tette e inizia a cantare e mimare la diva che c'è al jukebox e quello è il primo lip sync della storia gli anni 50 con l'arrivo del jukebox quindi anche lì quando pensiamo ecco è la roba nuova di tiktok la nuova niente ragazzi non ci siamo inventati niente c'era già tutto dovevamo solo perfezionarlo al massimo possiamo è questa la verità sta di fatto appunto che questo tuo iniziare amatorialmente è diventato poi una vera e propria professione adesso yes sì io mi sono formata anche a livello universitario ok si può dire così sì sì adesso da quando Anna Lisa ha detto che è laureata in fisica esatto anche io ho una frangetta e anche io ho una laurea sono praticamente lei mi sono formata in teatro musicale quindi in in performance art ok perché volevo proseguire questa carriera e anzi nei tre anni di accademia mi hanno costretto a fare l'uomo perché che se ne voglia dire sotto questa parrucca c'è un uomo non diciamo non diciamo non svegliamo questi segreti no perché la voce è così femminile che non si direbbe mai ah ma non perché sono le 8 del mattino ah io pensavo solo per quello sì sì perché sono le 8 del mattino e poi è diventato un mestiere adesso non lo faccio quante ore a settimana full time ho sempre dei lavoretti accessori li chiamo così lo fai in smart working diciamo è un part time è un ottimo part time è un ottimo part time part time che ma lo raccontiamo dopo la pausa pubblicitaria vi porterà se la seguite a vederla su vari palchi e varie situazioni milanesi perché sappiamo come Milano insomma è una città che però dà tante opportunità dal punto di vista del bug giusto sì 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 quella con più proposte più variegata e allora rimanete con noi perché fra pochissimo vi diciamo anche dove si può andare a vedere ad ascoltare ad ammirare gli spettacoli della Prada perché sono tanti abbiamo un calendario fitto di appuntamenti che vi vogliamo raccontare appunto qui in diretta a Good Morning Milano quindi piccola pausa rimani qua a Prada quando dobbiamo parlare poi di tutto il genere e vi decidi di raccontare anche poi mi devi raccontare poi ma come hai iniziato cioè perché la prima volta hai avuto in mente di fare sta roba eh questo segnatelo anche questo quando è che hai detto dai ok da domani io salgo su un parco e mi vesto così e ah vi faccio vedere io cosa so fare voglio capire quando è che è stato quel momento nel frattempo andiamo con un po' di musica con Dua Lipa con Trading Season click boom click boom rose vilain click boom 8 e 37 minuti siamo sempre qui insieme alla Prada buongiorno ancora Prada good morning allora diciamo appunto che volevamo capire però abbiamo parlato della storia del drag abbiamo spiegato che cosa sono e chi come drag queen ma come hai iniziato tu invece cioè come sei arrivata a un certo punto a dire ma sai che c'è andiamo sul parco lo faccio anch'io sì allora è iniziato a settembre del 2018 ok se poi dal Toilet Club Milano che abbiamo conosciuto tramite facebook faccio ma vediamo il lip show perché prima fanno il lip show e poi c'è la serata in discoteca normale lo vedo e faccio ma posso fare anch'io posso sì sì abbiamo di solito lo slot per gli amatoriali vieni bla bla e fino a quel giorno tu non avevi fatto niente del genere allora lì ce l'ho faceva cosplay ok travestirsi da personaggi dei cartoni animati degli anime ma va giusto che spieghi perché dopo il scontato che si amai si amai si amai si i quelli lì che vedete in fiera quando c'è la Milano Games Week quelli lì bravissimi proprio quelli io ero uno di loro il mio popolo e quindi sai sapevo un po' cucire sapevo un po' fare parrucche quindi ho detto proviamo questo nuovo modo di travestirsi fare parrucche però che le fate eh certo fare si prende la base si acconcia fantastico c'è un business per parrucchei per drag credo che avete reto solo i cappelli una volta una Barbie ma giusto così perché volevo vedere cosa succede volevo dire l'emozione non so come si inizia da lì volevo dire l'effetto che fa come dicevi anche gli annacci e quindi da lì è iniziato e poi appunto allora ho iniziato lì allora il mio primo lip sync è stato non voglio lì mica la luna di Fior Daliso ok con quest'abito che mi incordo era rondine quindi un mini dress davanti poi quello che ho da dietro wow durante il breggio della canzone il tacco un sensibile tacco 5 cm ok ma niente con foto d'oggi esatto stamattina giusto per farci capire tacco con me un 11 11 vabbè quello di Graceland quindi è abbastanza che è quello da mattina quello da 11 è quello da mattina esatto esatto pelle nera arriviamo quando siamo sul palco arriviamo a quanto allora all'ultimo spettacolo avevo un 18 perfetto ecco avevo un 18 con un plateau io di solito non sono da plateau ok con 18 però come fai senza plateau esatto un 18 senza plateau è una punitiva è fetish e faccio Fior Daliso durante il breggio mi si stacca la gonna dietro perché viene impigliata dal tacco quindi la prendo la uso come una mantella la uso faccio circo faccio scene improvviso 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 piace e sento proprio l'applauso sento proprio il gasp del pubblico il wow il famoso effetto wow e quella è una droga basta e mi sto detto lo voglio risentire lo rivoglio il pubblico è il più grande amante è anche il peggior amante di una drag ti ama la follia e ti tradisce un attimo è quello e il mio primo nome non è alla Prada no se lo posso dire agli ascoltatori ma si è un nome tranquillo nel senso il mio primo nome era Anastasia benissimo perfetto da Anastasia Anastasia molto divertente molto divertente però le cambiavo ogni settimana perché non mi stava tanto bene ti mandavi sempre il nome sì per il momento ho tipo Rosa ok poi ho fatto Loretta Cucchiaini beh 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 questa non è male Lorella Cucchiaini e poi Che Carlini è diventato anche Che Carlini anche bello fino a che il DJ non si è stufato e fa ragazzi alla Prada la conoscete è da lì rimasto che ci sta che ci sta secondo me mi rappresenta di più la Prada piuttosto che Anastasia no sì diciamo che apre anche più porte diciamo come dire vedi sono il mio drag che penso subito a male infatti no no ma facciamo benissimo così comunque la cosa interessante è che tu appunto sei andata anche ad alti livelli hai fatto anche la trasmissione televisiva a un certo punto giusto tu sei arrivi andata bene anche non più bene cioè nel senso no sì dai siamo spoiler spoiler siamo arrivati alla metà della stagione ok sono arrivato a settima su tredici insomma quindi top e io non ho mai fatto concorsi drag perché c'è anche una gigantesca cultura di concorsi drag di drag che fanno concorsi Master Queen Italia Beauty Queen Drag Factor mille altre adesso non mi ricordo ok drag race è il più grande concorso drag mondiale ok ecco inventato da RuPaul credo giusto sì da RuPaul nel 2008 2009 effetto e c'è appunto la trasmissione televisiva che segue tutto tutto questo che andiamo e appunto tu l'hai fatto in Italia l'ultima sì drag race terza stagione va bene com'è stato divertente ok un gene eco divertente no è stato molto come quando vedi unici come lui è simpatico si sa cosa c'è sotto simpatico non chiediamo cambiamo cambiamo discorso va bene ti salvo Prada salviamo la Prada da questo momento ma che no no va bene no è stata un'espensa molto formativa ma perché è un po' come l'università della drag perché ti impegna a fare tutto ad essere in drag tutti i giorni a cavolo tutti i giorni anche per 12 13 ore però di girato in totale però anche il miglior attore della vita insomma Stefano Accorsi te che non riesci mai dai personaggi vorrei vederti tenere il personaggio 12 14 ore al giorno così è favino facile fare senza parrucca senza tacchi senza contenitive senza niente così tanto un po' di BB cream ok e devi recitare devi cantare cucire fai runway fai lip sync quindi ti sfida a fare tutto quello che lo stereotipo di una drag dovrebbe saper fare che poi non sono delle capacità obbligatorie per fare una drag queen di successo però lo consiglio a tutte quindi adesso anche laureata in l'università delle drag quindi ormai ho doppia laurea per la Prada tanto che appunto è così ben laureata che potete andarla a vedere anche in vari spettacoli a Milano raccontaci un po' dove sarai e cosa possiamo aspettarci da uno spettacolo della Prada allora in realtà ne fai più di uno sono diversi faccio diversi diversi stili ho diversi venue in cui vado il 13 aprile questo sabato sono a Milano al Q-Lab via Padova 21 o 24 non mi ricordo mai con Super Queens Milano che è questo nuovo tipo di serata di evento che portano drag estere la prima ospite che abbiamo è Crystal Versace di UK Drag Race UK terza stagione quindi Versace versus la Prada Versace versus la Prada esatto mi hanno detto anche che è molto stronza stronza non si può dire scherzo possiamo dire anal non si può dire stronza ma come diciamo prima poi avete dei bambini fatti i vostri a spiegargli cosa abbiamo detto dovrebbe essere a scuola adesso quindi colpa vostra se ci sono bambini ascolto è colpa vostra quello ed è lip sync in discoteca ok 13 aprile si dove Q-Lab ok quello si può dire si può dire Q-Lab ok il Q-Lab piace a tutti poi il 21 aprile che ne stavo parlando prima con con Tamara domenica 21 io ho una residence all'atelier del teatro delle arti ogni mese faccio il mio spettacolo lì e quest'aprile torno con Judy Garland vita morte miracoli Judy Garland è una gigantesca icona mia icona gay ma icona drag ecco poi il 5 maggio sono al Bachelite Club che è un jazz club stupendo ci va anche la mia figlia drag Ama Supreme hai una figlia drag certo esistono le famiglie drag io ho una figlia e un figlio mi si apre tutto un mondo adesso perché soltanto quando fai la drag e la fai da un po' di tempo altre persone vengono da te e ti chiedono ma mi insegni ma posso e quindi si crea una famiglia e chiamarvi tutto era troppo difficile allora mi ha chiamati padre padre figlia ok anche perché in passato le famiglie biologiche rifiutavano ok il ragazzo omosessuale transessuale così e quindi si chiamavano delle famiglie non biologiche ma di scelta con una mother una house una casa ad oggi purtroppo esiste ancora questo tipo di rifiuto dalle famiglie diciamo che i miei figli non hanno avuto questa sfortuna ecco lei si chiama Ama Supreme Supreme come la marca invece il mio figlio drag che fa il drag king è Domo Valentino vabbè ok house of labels infatti house of labels ah bellissimo bellissimo ok ma queste cose le house non so ma che dico una stupidaggine fermami e dammi una schiaffo se sbaglio è quello un po' che viene raccontato anche in quella famosa serie Pose che si ok esatto ok perfetto e lì esplora molto il tema del rifiuto dalla famiglia biologica e quindi mi creo io la mia famiglia ok ok chiarissimo chiarissimo allora senti facciamo una cosa andiamo con un po' di musica ancora poi abbiamo qualche minuto prima di chiudere ci dai gli altri appuntamenti e soprattutto ci racconti di uno spettacolo invece importante che ha a che fare con la proprio Drag Historia yes con la storia del drag allora poi quello ce lo racconti bene andiamo con una canzone che secondo me vabbè un po' è in stile dai Donna Summer è un po' quella roba lì giusto donna Summer con oh no ho sbagliato molto bene mi sono emozionato c'è qualcosa da fare adesso andiamo con Donna Summer con Hot Stuff sempre qui a Good Morning Milano adesso ve la trovo ben pianino Prada mantieni un secondo l'attenzione dei nostri spettatori certo allora cosa vi posso raccontare io sono nata il 24 novembre ah non posso dire la data mi spiace no quello non si può dire però vabbè 24 novembre ah non sei scorpione per un giorno sagittario poco la cuspida in scorpione che mi è ando estremamente seducente mi chiedevo infatti da dove arrivasse tutta questa grande seduzione ecco la cosa Donna Summer Hot Stuff a proposito di seduzione cose calde Hot Stuff Donna Summer Donna Summer con Hot Stuff alle 8 e 50 qui su Cristian Radio Good Morning Milano allora qua con la Prada perché ci deve raccontare anche di uno spettacolo proprio sulla storia dei drag del mondo drag del mondo drag si chiama Drag Historia Drag Historia Drag Historia storia di performance che ho ideato durante la pandemia perché non potevo fare drag avevo questo eccesso di zelo dentro di me che dovevo in qualche modo un eccesso di drag che dovevo uscire esatto un eccesso di femminilità che dovevo uscire e mi sono sempre chiesto appunto come mai io faccio questa roba ok che ho iniziato vedendo Drag Race quindi Drag Race che mi ha spinto magari a fare la drag però prima di Drag Race cosa c'era e ho scoperto vedere una cosa che ti spinge e poi farlo anche esatto come quello che sogna il calcio e un giorno finisce a giocare contro Totti cioè con le robe lì Totti gioca ancora no non lo so non credo ma poi non seguo il calcio adesso fa l'influencer anche io non seguo il calcio molto bene avete trovato le persone giuste dovremmo fare una trasmissione che parla di calcio dovremmo le persone proprio adatte per farla per me Gattuso gioca ancora credo di no solo perché so che è stato male qualcosa del genere proprio Cristo quindi invece Drag Historia Drag Historia non parla di calcio parla di drag perfetto che appunto è un misterio antichissimo e lo esploriamo in diverse epoche quindi come è nato gli inizi nel teatro il primo lip-sync della storia le sorelle bandiera quindi che sono state delle innovatrici comunque nel settore anzi sono state fra le prime italiane avevo fatto il tour italiano e poi in Sud America prima di Laura Pausini però 50 anni prima di Laura Pausini però mi spiace mi spiace le sorelle bandiera poi arrivai fino a Drag Race ok e anche post Drag Race cosa c'è dopo il programma perché ci sono un sacco di altre iniziative anche programma ITV ok andare in scena più o meno quando Drag Historia stai lavorando? allora a fine maggio siamo a Roma ok la prima data Roma torno a Roma dopo Drag Race poi mi spaventa però vabbè poi a giugno siamo a Bergamo e dove avere dei piani per settembre per portarla a Milano bene bene perché l'ho ho iniziato la prima è stata a novembre sempre la tele del teatro delle arti però boh non mi piace riportare lì un altro spettacolo mi piace portarlo in un altro luogo tornerai nel luogo con un altro spettacolo invece l'atelier e poi invece questo qua lo porteremo da un'altra parte è una storia lunghissima quella appunto del mondo Drag abbiamo detto proprio inizio del secolo cioè è una storia lunga più di un secolo in realtà condensata in un'ora e mezza con una decina di performance di Leasing per anche far vedere al pubblico la differenza fra una performance degli anni 20 e una performance degli anni 90 quindi come è cambiato adesso io devo abbassare il livello ma so che in realtà giochi in casa però perché volevo capire questo un'altra reference sul calcio no 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 come stanno i legnanesi al Drag cioè come possiamo unire questi due mondi allora i legnanesi io li adoro io sono di legnano infatti ho fatto una domanda apposta e Felice Musazzi è stata la mia prima Drag tra mille virgolette che ho visto nella mia vita da piccolino loro non si considerano Drag e neanche le Drag le considerano Drag sono più intravestì quindi intravestì è un ruolo teatrale un po' come Paolo Poli ai tempi che invece che un eccesso di femminilità che arriva quella è la performance quindi un eccesso di femminilità o mascolinità è più rivesto i panni di un personaggio femminile anche se magari io sono un uomo c'è magari lo stereotipo di comportamento femminile appunto la casalinga quei casi legnanesi fanno la figlia vamp questa cosa qui però poi la figlia vamp io non li capisco non capisco una parola non mi hanno mai insegnato il dialetto è molto divertente molto divertente questo per farvi capire insomma davvero che quando parliamo di questo mondo è un mondo veramente super ampio in cui poi ci sono tante piccole nicchie e però tutto insomma un grande mondo che è quello appunto del drag queen e degli spettacoli che appunto ci ha raccontato oggi la Prada la Prada grazie ma grazie a voi grazie a te Fabio siamo arrivati alla fine anche oggi la edizione di Gommano in Milano mi raccomando seguitela sui social la Prada la Prada appunto we are all Prada instagram we are all Prada we are all Prada lo segnate instagram ttok lo trovate ma comunque se cercate su google la Prada drag queen trovate tutto diciamo anche non cercate solo la Prada perché ne fai un ristorante almeno a me anche lì bisogna capire l'algoritmo se cercate soltanto Prada viene fuori la marca però è interessante che a me viene fuori il ristorante perché l'algoritmo mi vede e sa cosa cerco di solito quindi bisogna capire se anche agli altri viene fuori il ristorante o altro bisognerrebbe capire magari invece l'isla magari vengono fuori subito le scarpe comunque io spero che la Prada al ristorante mi chiami per un evento lì vabbè la Prada al quadrato è fantastico la Prada al quadrato sarebbe sarebbe fantastico e allora andiamo con la sigla 8 e 56 minuti di oggi giovedì 4 aprile volge al termine la puntata di oggi di Good Morning Milano Benzinai Teatro Payette Lustrini Drag Queen cioè cosa volete di più da una puntata di Good Morning Milano io non so più cosa inventarmi questo oggi ho dato il tutto il tutto ho dato il tutto per tutto ma dovete ancora vedere quello che succederà domani dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa la musica internazionale e nazionale raccontata dalla preparatissima e bravissima voce dell'Ambrogione con il nostro Sant'Ambrogio Curti ancora grazie alla Prada che è ancora qui con noi grazie mille di essere qui con noi grazie di tutto quello che ci hai portato e grazie della luce che hai portato in questo studio ma grazie alla vostra luce mi sento molto bella e le voci le potete sentire anche domani mattina no non siete Giovanna D'Arco che sentite le voci è la radio è quella roba lì che vi fa ascoltare tutte le mattine le notizie su Milano qui a Good Morning Milano dalle 7 alle 9 grazie ancora a Delisa in produzione grazie a Maria Regia grazie a tutta la redazione a domani qui sempre in diretta ciao